Capitana, vieni qua capitana, adesso avviva il premio di Simona Venite, venite ragazzi, settimo premio, venite venite qua, la Roma da Sardegna, eccola qua, brava, brava, brava brava, 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 anche stasera Simona Danzallo e Valentina è stata un grande supporto per una grande squadra, settima da Sardegna, è arrivata, è arrivata, è arrivata tutta la Sardegna, questo è già un set di spese per tutti i giorni quindi arriva un grande e un bravo a Sardegna, bene, Sardegna ha 18 punti, Sesto classificato